C'era una voglia in Italia, non solo di cambiamento, ma di vendetta contro la sinistra, di vendetta. Ci avete delusi, ci avete coperti di amarezza, non votiamo più per voi. La verità è che è una reazione emotiva, non è una reazione politica questa. Io non sono d'avviso che tutto quello che fa la base, il popolo, è giusto. È una reazione non riflessa. Io non credo che quelli che non hanno votato volessero sindaco alle mani. Adesso si sono svegliati trovando un sindaco per il quale un mese fa nessuno dava niente. È delusa con la sinistra perché c'era una grande aspettativa sul governo Prodi e questa aspettativa è andata delusa. In parte perché il governo Prodi raccoglieva tutta la sinistra, anche la sinistra cosiddetta estrema. Non è estremo più nessuno, sono tutti molto tranquilli. E fino al centro della Margherita, che era la democrazia cristiana di sinistra. E c'è stata una speranza molto forte che qualche condizione di vita cambiasse. Ora, Prodi ha puntato soprattutto a rimettere in sesto i conti pubblici, perché l'Italia ha dei conti pubblici terribili rispetto agli altri paesi. Noi abbiamo un debito pubblico maturato negli anni scorsi enorme. E questo significato è stato molto pesante per la gente. E quindi abbiamo sperato in voi, ci avrete delusi, siete stati in una delusione, e ve la facciamo pagare. Il problema è che due cose, io credo. Una è che la sinistra non ha mai fatto il lutto dell'Unione Sovietica. Non ha mai esaminato come e perché quella idea di socialismo era un'idea che è crollata su se stessa, non è stata invasa dagli altri. La seconda cosa è che, in conseguenza anche della prima, c'è stato un trionfo del capitalismo su scala mondiale, un'ondata molto forte, molto forte, alla quale la sinistra non si risponde. La sinistra poi era, come si dice, insediata localmente. Noi siamo di fronte dei processi mondiali. non può difendere una fabbrica soltanto a Barcellona, dovrebbe poterla difendere almeno su scala continentale, perché ci sono delle localizzazioni, si spostano, si va. Rispetto a questo nuovo panorama delle forze produttive e del capitale finanziario, che si muovono in tempo reale, le masse umane sono bloccate ed erano avvezze a un altro tipo di lotta politica, magari sanguinosa, ma se si voleva occupare una fabbrica, si occupava. Adesso può occupare una fabbrica e questa si sposta. in certi posti ci sono ancora. La cosa, quello che è sparito è il Movimento per la Pace, perché c'è stato un Movimento per la Pace enorme, ma non è enorme, un'unione di persone di ogni tipo e non è servito. Cioè, Bush ha continuato a fare la guerra, noi abbiamo ritirato Prodi e ritirato le truppe, insomma, la sensazione che fra il New York Times l'aveva definita la seconda superpotenza mondiale. E questa superpotenza non conta rispetto alle forze del capitale organizzato e alle forze militari negli Stati Uniti. E quindi quello è molto, è uno stato d'animo che è finito. Intanto erano giovani e sono invecchiati. Questo è una cosa, è stato il Movimento di una generazione che si è trovata prima della grande, diciamo, del crollo dell'idea socialista e prima della grande ripresa in mano consumistica dell'epoca reganiana. Quindi, da un certo punto di vista, Daniel Commendita ha ragione quando dice che non è la stessa situazione. La situazione si è proprio profondamente modificata. Però a situazione modificata dovrebbe corrispondere un movimento modificato e riflessivo a questa altezza. I figli di quelli del 68, i figli dei figli, non simpatizzano più per i padri. Perché? Perché li accusano di avere, la cosa che mi ha più colpito, li accusano di avere inseguito dei sogni, delle cose, bisogna essere più concreti, bisogna guadagnarsi un posto. Voi in fondo vi siete divertiti e noi non ci divertiamo affatto. Adesso, in tutta Europa, per esempio, la lotta si sposta più che il conflitto di classe. Hai dei conflitti nella classe, perché tu hai i vecchi e i giovani contro i giovani e gli immigrati contro tutti. Cioè, tutti contro gli immigrati stanno avvenendo delle cose terribili sull'immigrazione, delle cose di tipo fascistico. Io non sono, avendo conosciuto il fascismo, non sono uno che usa questa parola per dire uno antipatico e fascista. Il mondo è pieno di antipatici, non fascisti. Ma la cosa femminile è venuta fuori, non è figlia esattamente del 68, se non in un modo che le donne che hanno partecipato al 68 si sono rese conto che i maschi del 68 erano come i maschi di prima. Quindi è stata una specie di lezione. E il movimento femminista è venuto fuori ed è quello che in qualche misura dura di più. Però non è riuscito neanche il movimento femminista a influenzare realmente il corso delle politiche. Ha riuscito a ottenere un risultato che non gli premeva, cioè che ormai in tutti i governi entrano le donne. Ma entrano delle donne che non portano con sé diciamo l'ipotesi femminista, cioè un mutamento del paradigma, del pensare, delle cose, eccetera. Quindi il femminismo ha dato un forte passo in avanti all'emancipazionismo. Anche voi avete sentito pieni di donne al governo. In Italia c'è stato il partito radicale che aveva presentato per rompere l'istituzione una pornostar. Questa pornostar è arrivata al Parlamento e si è spogliata nella Camera dei Deputati. che è un straordinario evento, no? Il Presidente della Camera le ha chiesto ha finito onorevole Elezione d'Italia. Niente è successo. Io sono appena arrivata da un'ora a questa parte e vedo Marcellona e l'ho vista è la città spagnola di quelle che io conosco che è più cambiata rapidamente. Nei dieci anni che hanno seguito la caduta di Franco Barcellona è cambiata molto. E poi voi avete Barcellona e Catalonia è una grande tradizione di architettura. Questo ho trovato anche a Chirono architettura è del Novecento come anche architettura moderna. Quindi Barcellona è cambiata. Cosa siano i barcellonesi? Io salvo con Ronaldino non? Siano ronaldino? Siano Siano ronaldino?